Ben ritrovati con Tripce Fischio, ci colleghiamo subito con lo Stadio Zini dove c'è Mister Pecchia. Buon pomeriggio Mister. E allora Mister, le faccio fare un'analisi del match perché dopo i primi minuti dove abbiamo visto la Cremonese proprio partire a Rembante ha poi subito il Pordenone, il gol ci ha un po' messo in difficoltà ma dopo siamo usciti e siamo riusciti a portarci a casa questi tre punti fondamentali. Sì, i primi tre minuti è qualcosa di molto bello e mi davano delle belle sensazioni anche il pre-gara da parte dei ragazzi, abbiamo avuto un bellissimo approccio poi su una ripartenza, abbiamo subito il gol e ci abbiamo messo un po' di tempo per riprendere, per riprenderci anche dal punto di vista psicologico il Pordenone si è fatto sotto, l'ha tenuto meglio il campo anche se già sul finale, insomma dopo la parte centrale del primo tempo a finire il primo tempo l'abbiamo tenuto bene poi siamo andati in vantaggio il secondo tempo con merito, avevamo la forza di chiuderla e questo è di rompere la gara perché c'è stata la prima frazione del secondo tempo dove siamo partiti alla grande, abbiamo avuto delle situazioni veramente per... e poi partite che possono sempre... partite sempre aperte, può succedere di tutto. Roberto? Sì mister, una riflessione anche ovviamente l'atteggiamento importantissimo, la capacità di reagire dopo quella fase un po' difficile effettivamente del primo tempo con il Pordenone che ha messo meglio in campo però poi anche una lettura devo dire ottima, secondo me con il passaggio alla squadra disposta su quattro linee che ha ovviato anche quel problema magari del lancio lungo che il regista del Pordenone effettuava spesso in profondità insomma la squadra disposta su quattro linee ha occupato il campo in modo tale da rubare anche più palloni come ha effettuato Valeri in occasione del vantaggio, del pareggio. Sì, l'abbiamo poi fatto anche abbastanza bene ma di questo sono contento perché ormai queste le due soluzioni ce le abbiamo nelle corde siamo partiti in un certo modo anche abbastanza bene e poi nel momento di difficoltà cambiando loro comunque i miei si sono trovati bene al proprio agio, abbiamo guadagnato più campo e anche arrivare su Calò e anche nel tipo di palleggio loro per noi era molto più semplice siamo stati comunque più compatti anche perché ogni volta che c'era una palla lunga loro erano molto forti, soprattutto Musioli comunque a tenere queste situazioni, a crearci dei problemi però devo dire che abbiamo affrontato una squadra che è in salute, una squadra che ha dei valori e oggi è una vittoria veramente molto molto importante. Mauro? Sì, tra l'altro mister è una vittoria importante, alla vigilia aveva detto che è una gara da tre punti non una partita a salvezza, però questi tre punti adesso pesano e come in classifica insomma si inizia a guardare un po' più in alto piuttosto che indietro visto che anche insomma la distanza dalla coppia play-out è abbastanza importante. La squadra deve guardare alla prossima, io faccio altrettanto, dobbiamo pensare alla prossima è una sfida e continuo a dire da qui alla fine tutte le partite valgono tre punti chiaro che poi quanti più punti fai e poi puoi guardare la classifica in un certo modo però l'obiettivo della squadra è quello di prepararsi al meglio per la prossima gara una bella sfida contro una squadra di altissimo livello e quindi per noi sarà anche stimolante affrontare questa gara, però poi alla fine dei conti vale sempre tre punti. Mister, ci provo anch'io e sono un po' più diretta, cambiano gli obiettivi della Cremonese? Ma questo vuoi essere più diretta, ne parlate voi, io sono molto diretto con i miei e quello che devo dire ai miei è continuare a migliorare e pensare a vincere la prossima gara. Mister, mi creda che qui noi ne parliamo ampiamente dell'obiettivo del guardare un po' più in su ne parliamo già da più di una partita, quindi stia tranquillo che noi da quel punto di vista ci stiamo divertendo molto e ci piace che la Cremonese continui a farci divertire in questo senso. Quando si vince è tutto sempre più bello, tutto è più forte, tutto è più semplice. La squadra deve continuare a lavorare e ripeto, ogni partita deve essere una sfida e guardare alla prossima sfida con il massimo dei tre punti. Adesso è vero che, però è ancora lunga, anche se molto concentrato, però è lunga perché sei partite, cinque, insomma, con quelle che mancano in base ai recuperi c'è tanto materiale sul tavolo, quindi uno deve pensare a fare la corsa solo e esclusivamente sulla prossima gara. Poi, chiaro, il vostro compito, anche in maniera divertente, si può anche fare, ma noi dobbiamo essere concentrati su quello che è la gara. E a proposito, insomma, della prossima, mister, un flash sul recupero con l'Empoli di martedì. Insomma, arriva la capolista, non sarà una partita semplice, il Covid l'ha un po' destabilizzata, ma l'abbiamo vista giocare ieri sera, insomma, non ha dimenticato come si gioca a calcio? No, beh, stanno facendo un grande lavoro, l'allenatore sta facendo un grande lavoro, una rosa competitiva, un club che è abituato a fare queste cose straordinarie, quindi ci sono tutte le componenti per parlare di una squadra quasi al limite della perfezione. Mi piacerebbe da parte dei miei affrontare la gara con la personalità giusta, con il piglio giusto e, ripeto, è una partita che comunque sul campo verrà giocata e varrà solo esclusivamente tre punti. Grazie mille, mister, è stato molto gentile, ci rivediamo martedì, buon pomeriggio, grazie. Ciao, grazie a voi.